L'ispirazione alla biorivitalizzazione dermaestetica porta a declinare la fase di esfoliazione in due peeling che differiscono per concentrazione, tipo di idrossi acidi e indicazioni. Glicopil, con il più piccolo degli alfa idrossi acidi, l'acido glicolico, al 20%, agisce in modo intensivo sull'adesione corneocitaria per esfoliare gli strati superficiali dell'epidermide e favorire il turnover cellulare. La peculiarità di un'esfoliazione intensa e superficiale lo rende il peeling di elezione in caso di fototipo medio-oscuro, generalmente caratterizzato da uno spessore epidermico superiore. Pentapil, invece, formulato con una combinazione di 5 acidi, alfa e polidrossi acidi, insieme ad acido succinico, in concentrazione totale pari al 12%, è indicato per un'azione spogliante graduale con effetti progressivi a livello dermico. Questo peeling è da privilegiare se il fototipo è chiaro-medio, tendenzialmente associato a epidermide più sottile. Nei protocolli Bionic e Cosmeseutical, l'uso del peeling è consigliato tre volte a settimana, per amplificare l'efficacia della fase di stimolazione e coadiuvare in ambito domiciliare i trattamenti dermoestetici.